a Tristano Martinelli, celebrato in terra di Francia, in Spagna e ovunque, come creatore del personaggio di Arlecchino. Capace di recitare nella maniera più trasgressiva, corporea, violenta anche, ma capace poi di governare se stesso come ambizioso cittadino mantovano e suddito anche del re di Francia, quindi con questa enorme capacità di unire il basso con il repertorio basso, la componente basso corporea, con l'ambizione di una comunicazione internazionale, diremmo oggi, europea e una comunicazione anche per i seti alti. Questo gioco del basso e dell'alto, voi sapete che nella letteratura italiana non esiste quasi più. Dobbiamo aspettare Goldoni per certi aspetti, dobbiamo aspettare Alessandro Manzoni per altri aspetti per trovare questo tentativo di fusione del basso e dell'alto, di uno stile cioè mescidato come invece nella letteratura nel teatro inglese è costante presenza. Dunque personaggi più che letterari umili e l'assunzione del corpo come punto cardine di tutto corpo inteso ovviamente anche come voce, come emissione del canto, pratica della danza e governo del corpo che voi sapete altrettanto che in questa epoca tra Cinque e Seicento è tutt'altro, è una capacità di governo del proprio corpo molto poco diffusa sono gli italiani che insegnano in Francia ai francesi come ci si deve comportare, come bisogna anche in alta società relazionarsi agli altri. Qui si aprirebbe un capitolo interessantissimo della, come dire, quella che poi diventa l'etichetta ma che qui è un'etica del corpo. Quindi in un periodo poi di guerre, non sto qui a ricordare quello che è stato già ricordato cioè l'estrema tragicità di questo momento. Lo scontro non solo fra religioni ma all'interno del mondo cattolico lo scontro anche con il pericolo musulmano. Insomma qui si apre un capitolo di straordinaria importanza ma loro vivono, i nostri attori vivono in questo, in questo mondo. Si spostano anche all'interno del Mediterraneo dunque capite che la capacità di attraversare questo che è sostanzialmente anche un inferno beh è glorioso, questo fatto è glorioso, è straordinario, riuscendo a trasmettere nei diversi luoghi una sensibilità artistica fatta di uso dei colori, i costumi per esempio, l'uso della vocalità ho detto prima, della parola parlata, della parola cantata, l'uso del corpo in quanto componente coreutico eccetera eccetera, cose che ho grosso modo detto. Tutto questo in un periodo di guerra, uno dei periodi più cruenti dell'Europa a cui si deve aggiungere quella peste di cui morirono alcuni attori proprio in questi viaggi attraversando numerose frontiere, o non solo poi le morti delle attrici perché non c'era la pendicilina come è noto, quindi attrici che morivano per gravidanze dunque è un inferno, è un inferno da cui escono fuori queste figurine aggraziate poi gli stessi attori non è che rappresentavano stessi come poveri cristi che soffrivano si rappresentavano nelle migliori possibili posture dunque nasce qui quell'equivoco di una commedia dell'arte tutta fatta di salterelli grazie sfumate, profili deliziosi, damine eccetera eccetera che è un falso, che sono stati gli stessi attori a creare e che invece era tutto il contrario la grandezza, ripeto, di questi attori e di questi attrici è proprio di avere sublimato un'esistenza difficile, soprattutto le donne ed è un momento straordinario di protagonismo femminile capaci di essere madri, di essere mogli che seguono i mariti di essere anche più anziane protettrici di attori più giovani, più o meno imparentati questa straordinaria, gloriosa impresa delle donne tra le quali ricordiamo la sublime Isabella Andrini su cui ora non mi soffermo ma che è sicuramente una delle poetesse più significative del tempo che poi la sua poesia, che i suoi scritti siano nati anche dalla collaborazione con altri membri della compagnia non ci interessa più di tanto perché quando è cessata del tutto la partecipazione di più persone di più comites alla creazione di un'opera letteraria e l'opera letteraria diventa opera dell'individuo molto tardi allora in un periodo di guerra così difficile si ricompone un'armonia possibile tanto è vero questo che in Francia furono adottati come rappresentativi di un'armonia pacificatrice in un periodo che in Francia era ancora più terribile con gli scontri sia dinastici che anche religiosi fra luterani, protestanti e da una parte cattolici dall'altra dunque all'interno di tutto questo c'è un tipo di prodotto poco conosciuto certamente gli esperti e gli studiosi lo conoscono molto bene in cui la commedia dell'arte non è quella che noi crediamo appunto è la rappresentazione anche di violenza di tragedie di assassini di morti per sofferenze di vario genere è quella che si chiama il genere dell'opera regia dunque ribadisco questo concetto opera regia come anche source, fonte per il teatro europeo di origine non italiana Shakespeare è profondamente e alcuni studiosi recenti lo hanno dimostrato Shakespeare è debitore nei confronti di molta di questa tradizione ecco quindi che noi abbiamo un tipo di teatro come si dice dell'arte che è diverso in queste mie descrizioni volutamente anche un po' tendenziose per correggere per correggere un costume interpretativo una lettura banalizzata dalla maggior parte poi dei teatranti perché l'Arlecchino che fa quel grandissimo attore che è Ferruccio Soleri cito questo perché tutti l'avete visto è tutto pulitino è tutto toscano fiorentino cioè di quella tradizione tutta ripulita post ottocentesca quella che trasforma Pinocchio in un bravo bambino Arlecchino è il burattino era il burattino ma la logica di Collodi che come sapete compose questa parte non nella prima edizione del suo romanzo ma successivamente era per venire incontro a quello che era l'ambiente della Firenze che era poi la capitale stava diventando la capitale d'Italia quindi c'è tutto un problema del rimosso che riguarda la commedia dell'arte ma riguarda tanti altri aspetti anche Manzoni è stato frainteso in questa direzione ecco dunque si tratterebbe di scrostare dagli l'intonaci ripuliti la commedia dell'arte e riportarla la sua io mi permetto di dire purezza la sua purezza multimediale diremo oggi cioè questa ricchezza e questa mescolanza di stili e di come dire anche di culture perché uno dei personaggi chiave della commedia alcuni direi uno in particolare dei personaggi chiave era un ebreo e l'ebreo aveva una duplice natura in questo caso stava con questi personaggi un poco duteux direbbero i francesi sospettabili e dall'altra parte però era anche molto stimato nell'ambiente colto era uno scrittore e leone dei sommi era uno scrittore era uomo coltissimo in rapporto con tutti i principi italiani aveva una sua profumeria profumeria in Venezia cioè era un artigiano un mercante che comunque andava anche accompagnare gli attori ma non è che li accompagnava era il dramaturg oggi diremmo cioè era colui che costruiva le trame ma costruiva le trame complesse trame comiche trame tragiche trame esotiche una miniera il suo teatro delle favole rappresentative è nella forma dei canovacci un capolavoro che non ha niente da invidiare alla fantasia solo che là c'è un'altra roba di Shakespeare comunque sappiamo che anche di Shakespeare c'è da dubitare quanto avesse scritto quelle cose o quanto fossero state trascritte da altri De Sommi non ha avuto la fortuna di avere un trascrittore si è lui stesso fatto aiutare da un letterato a ricomporre una sua commedia ma il quale era la disgrazia che doveva farla in ambito fiorentino rinascimentale umanistico e quindi gliel'hanno scritta gliel'hanno aiutato a scriverla insomma in una forma che non è proprio rappresentativa identificativa di quel modo di recitare dei attori della commedia dell'arte diversi aspetti invece di conoscenza diverse fonti per la nostra conoscenza della drammaturgia dei comici dell'arte sappiamo che sono alcune commedie pubblicate poi successivamente da Giovanni Battista Andrini che essendo fiorentino rispettava la lingua forse la rispettava anche un po' troppo la arricchiva si imbellettava però fu un grande drammaturgo quando si dice che la nostra letteratura drammatica la nostra drammaturgia non è importante oppure se lo è lo è solo nei vertici più alti tragici eccetera dovremmo ripensare a questi personaggi ma fa parte tutto ciò della sfortuna direi anche accademica ma soprattutto culturale complessiva di uno dei ritardi della nostra cultura allora questa presenza di canto musica danza e gesto va sottolineata come passepartout come passaporto per le grandi anche le altre grandi monarchie ripeto in Francia lo sappiamo è noto che in Francia la commedia dell'arte ebbe la sua massima valorizzazione le fonti che noi usiamo molto spesso tranne appunto questo testo che citavo di Leone De Sommi oppure il testo di Flaminio Scala molte fonti sono francesi soprattutto iconografiche perché in Italia dove hai un fenomeno così diffuso non è che ti viene in mente di dipingere un quadro o di fare un affresco dedicato a tutto ciò che è normale quotidiano e nello stesso tempo un po' revulsivo perché rappresenta un'arte insomma di professionisti e di donne attenzione di donne recitanti molto discutibili cosa succede? che le fonti più straordinarie le troviamo all'estero cioè fuori dall'Italia quello che allora era il panorama europeo e le troviamo in area fiamminga in area francese e anche in area di lingua tedesca in Inghilterra molto meno perché appunto gli italiani erano visti anche come possibili possibili spioni possibili agenti del mondo cattolico e voi sapete le vicende storiche che travolsero in alcune circostanze la cultura e la società inglese contro questa realtà contro questa diciamo popolazione migrante tre duteuse sono in ritardo? ah va bene ecco segnalami perché io poi non mi fermo non mi fermo no ma tu tu sei gentile dunque allora da questo punto di vista noi dobbiamo tenere conto che questo insegnamento implicito di un teatro fatto di parola ma non gliele poteva interessare di più agli stranieri anche se noi sappiamo che l'italiano è lingua umanisticamente molto diffusa e quindi apprezzata e compresa soprattutto nelle élite e queste élite erano quelle che per prime ricevevano gli attori ma gli attori non recitavano solo a corte gli attori recitavano anche lungo la strada quando attraversavano le Alpi in direzione della Francia si fermavano a Lione a Lione non c'era una corte così rilevante come quella di Parigi era città significativa ma recitavano anche per il pubblico diciamo noi diremmo normale cioè per i cittadini che poi non erano i poveracci ma evidentemente recitavano lì ma poi proseguivano e avevano delle soste periodiche poi si recavano verso il nord attraversavano a Calais e si recavano in Inghilterra dove anche non è che andassero alla corte recitavano anche con l'appoggio e con la collaborazione non sempre gradita ma comunque con la collaborazione degli attori inglesi che talvolta entravano nelle compagnie italiane e così lo stesso discorso riguarda la migrazione verso il mondo orientale con passaggi certamente incardinati sulle corti e qui bisogna sottolineare come tutto ciò rappresenti l'Italia ma non l'Italia intesa ovviamente come è stato ma rappresenta la grande cultura rinascimentale che voi lo sapete bene si rappresenta ovviamente con i pittori che vanno ad affrescare palazzi significativi e ne rappresentata anche dalla menzione dei grandi scrittori ma non secondario la presenza degli attori tracce che sono state studiate in pitture in fonti pittoriche in fonti anche in affreschi di varie città d'Europa dimostrano la grandissima penetrazione di tutto questo allora ecco che abbiamo da questo punto di vista un certo orgoglio che la nostra cultura cominciando da quella statuale non ha particolarmente valorizzato e io qui colgo l'occasione per ripetere per l'ennesima volta la necessità di una valorizzazione di questo bene di questi beni culturali come dire intangibili ma comunque documentati da alcuni quadri significativi valorizzazione di questo che è un patrimonio culturale come si dice oggi dell'umanità ecco questa è stata una cosa che ha subito varie avversità ma anche ha prodotto dei semi significativi l'elemento fondamentale di questo teatro voglio ribadirlo con attenzione è l'elemento parodico ora noi della parodia abbiamo un giudizio tendenzialmente riduttivo ma quasi io non dico tutta certamente non tutta ma gran parte della nostra letteratura è parodica anche qualora anche quando non lo si coglie perfettamente questo naturalmente lo si capisce in un libro importante come il Pinocchio di Collodi ma tutto il teatro di Carlo Goldoni va in questa direzione cioè non è teatro solo della rappresentazione della realtà sociale veneziana come è stato detto e anche come in parte è vero ma è anche gioco di parodia di forme teatrali del tempo Carlo Gozzi e tutta l'opera e tutto il melodramma non è fondato anche su citazioni e rovesciamenti della tradizione innovazione della tradizione e questo esercizio della parodia naturalmente ha un aspetto riduttivo rispetto in confronti della della grande letteratura ma è un elemento costitutivo della nostra della nostra cultura certo è difficile inalberare la parodia come emblema della nostra cultura e non lo è neanche ma è comunque una componente significativa allora quello che è compito un po' dello studioso ma occorre non uno studioso di letteratura uno studioso di storia uno studioso diciamo dell'antropologia anche umana dell'antropologia cosiddetta come si dice culturale e occorre qualcosa di più complesso perché le fonti più significative per la conoscenza di questo tipo di vita culturale teatrale dove dobbiamo andarle a cercare noi dobbiamo andarle a cercare negli archivi di stato laddove questi archivi come in Italia ad esempio sono straordinariamente ben organizzati secondo me è uno degli orgogli della nostra cultura di avere saputo tenere in piedi questo patrimonio straordinario ma negli archivi francesi non solo nel grande archivio parigino ma anche in archivi minori ora non è il caso di entrare in questi particolari ma qual è il punto che dobbiamo estrapolare tranne che a Firenze dopo dico questo estrapolare le fonti teatrali all'interno di fonti spesso diplomatiche perché le notizie sugli attori passano attraverso quei rendiconti di polizia urbana di controllo della circolazione dei migranti tema che conosciamo ecco documenti conservati nell'archivio della polizia appunto e anche gli archivi diplomatici del Gran Ducato di Firenze così come a Venezia nell'archivio di Venezia con la differenza che scusate l'orgoglio ma quello di Firenze è un archivio organizzato molto bene quello di Venezia è un archivio meraviglioso nel quale se qualcuno ci ha lavorato non è facile andare a reperire le fonti ma nell'archivio di Parigi nell'archivio di Parigi si può anche cercare di rintracciare qualche traccia e lo si è fatto a Madrid o meglio insomma nell'archivio di Simancas e così via a Lisbona cioè è una grossa una grossa fregatura perché i nostri attori viaggiavano e lasciavano tracce perché le lasciavano soprattutto là ma perché in Italia tutto era molto conosciuto quando un fenomeno è noto tu lo vivi tu ne parli tu lo rammenti ma non lo documenti subito perché fa parte del quotidiano e allora invece laddove l'apparizione era una sorprendente visione una sorprendente capacità di ascolto perché ripeto andavano là cantavano cantavano gli attori andate a prendere l'attore fiammingo non avevano questa capacità questo risulta dai documenti anche perché cantare in fiammingo non so ma i barcaroll veneziani allora allora no ma con tutto rispetto dei fiammingo diciamo questo è sempre bene dirlo questo allora questa meravigliosa e questi cantavano improvvisavano recitavano ma non lasciavano scritto abbastanza quindi un aspetto anche questo molto importante di sapere bisogna sapere integrare le lacune se voi aveste qui un affresco che è come dire un affresco antico ricoperto da varie strati di vernice bianca e voi lo tirate giù lo scavate poi ci sono delle facce ci sono dei corpi c'è un crocifisso ma dove siamo la commedia dell'arte è così è come un grande affresco ricoperto da un'imbiancatura che è la censura strane ripeto alcuni casi che sono quelli della grande biblioteca mi permetto di ripetere dell'archivio di stato di Firenze ma anche negli archivi vaticani negli archivi vaticani sono moltissime informazioni a Venezia con un disordine ripeto di assistematicità secondo me dell'archivio di Venezia e sono l'archivio di Milano e Napoli cioè è una cosa di una grandezza straordinaria che naturalmente non ha destato la medesima attenzione che destano i documenti di Camillo Benso Conte di Cavour o anche di Giuseppe Garibaldi di Giuseppe Verdi con tutto il rispetto del grande però voglio dire ecco questo è il grande il grande oscuro mistero della commedia dell'arte su cui ovviamente voi trovate tanti inventori fantastici fantasiosi divertiti è lì che commettiamo un grave errore dobbiamo avere la pazienza la pazienza e l'orgoglio di valorizzare tutto questo piuttosto che come dire accontentarci del sonno dell'investigazione perché ogni tanto l'investigazione si stanca e si dedica ad altro allora un altro aspetto a cui ho accennato che volevo sottolineare era la presenza anche degli ebrei ebrei che erano imprenditori grazie Grazie a tutti.